Gentili telespettatori, buona giornata. Laura Boldrini manifesta per la parità di genere nei porti. Nei porti? Ma che vuol dire? Vediamo quale profondo concetto e quale profonda riflessione avrà maturato la meravigliosa Boldrini, come scrive Francesco Storace sul Libro Quotidiano. Ieri a Livorno Laura ha presenziato a un convegno e così il tema della manifestazione era un tema di un certo livello, tra passato, presente e futuro per un'equità di genere nei porti. Nei porti? In che senso? Eh sì, a Livorno c'è il porto e si parla di porti. Va bene. Ma vediamo esattamente cos'è... Poi Storace scrive ma dobbiamo parlare della nave o il nave? Perché la nave... nave finisce con la E, però è femminile, la nave... però per la discriminazione di genere, l'attenzione alle parole, tutte queste cose qua, la nave potrebbe diventare al maschile il nave. Il nave. Vabbè. Questo come se fosse la cosa più importante d'Italia. E lei dice non esistono lavori per donne e lavori per uomini. I pregiudizi vanno abbattuti perché sono gabbie per tutti e tutte. Ormai quello specificare tutti e tutte è diventato veramente pesante. Si dice sono gabbie per tutti. Si utilizza il plurale maschile per indicare uomini e donne. Ma oggi ogni frase devi specificare per tutti e per tutte. Gli alunni e le alunne. Gli operai e le operaie. Devi sempre fare... Ecco. E aggiunge per questo è stato importante partecipare all'evento organizzato a Livorno per parlare di equità di genere nei porti. Un settore, quello dei porti, che a causa dei pregiudizi e degli stereotipi è tradizionalmente considerato un enclave esclusivamente maschile. Ed è anche grazie al lavoro dell'assessora Assessora al porto Barbara Bonciani che questa realtà sta diventando sempre più aperta e acquisendo peso e visibilità. Poi la Boldrini racconta che a Livorno c'è una donna comandante di navi da crociera in tutto il mondo ce ne sono soltanto 12 e nel porto di Livorno le donne che si occupano di imbarco e sbarco merci sono il 10% contro una media nazionale dell'8%. Mi sembra quindi di poter dire che Livorno stia facendo da apripista in questo ambito. Bisognerà ampliare anche le conoscenze linguistiche però e magari farsi spiegare da una comandante tedesca come si speronano le modovedette della finanza E vabbè, questo però non c'entra niente Lo scrive Storace ma non c'entra assolutamente nulla, carola, con questo va bene Boldrini che nei porti ci sia equità di genere ci sono a volte dei lavori che li hanno fatti sempre gli uomini perché magari pesanti fisicamente pesanti e la struttura dell'essere umano maschio è più muscolarmente più forte mi sembra ovvio pertanto ci sono dei lavori che vengono fatti solitamente dagli uomini perché lavori di fatica i lavori di fatica ce ne sono tanti di lavori di fatica lavori pesanti però li vogliono fare anche le donne le donne vogliono andare a lavorare al porto vogliono fare i muratori al 50% le muratrici il muratore diventa la muratrice che lavoro fai? faccio la muratrice che lavoro fai? faccio la scaricatrice di porto va bene, nel senso io non credo ci sia nessun impedimento certo che i sacchi di cemento io li ho alzati ho avuto anche difficoltà e avevo anche 20 anni ho avuto difficoltà ad alzare dei sacchi di cemento di 30 o 50 chili per qualche mese tre mesi ho aiutato mio zio che aveva un'impresa di costruzioni per tre mesi ero andato a lavorare con lui si stava ampliando una fabbrica mi ricordo intorno Milano e così sono andato ad aiutarlo e vi devo dire che insomma quando c'è da spostare i sacchi di cemento per esempio o spostare i bloc per costruire le case quelli di cemento i mattoni di cemento che si chiamano bloc che pesano 15-20 chili l'uno ho avuto difficoltà ecco pertanto capisco che se metti una ragazza magari anche fragilina ad alzare un sacco di cemento non te lo alza non puoi alzare un sacco di 30 o 50 chili pertanto ci sono dei lavori che sono fatti dagli uomini non perché l'uomo dice il muratore lo faccio io e basta perché è un lavoro pesante ci sono lavori pesanti che la donna non ha mai fatto proprio perché pesanti volete fare le muratrici le scaricatrici di porto va bene fateli nessun problema non è che non è che cambia chissà che cosa se volete fare quelli per sentirvi alla pari fatelo che vi devo dire solo che fisicamente c'è uno sforzo in alcuni lavori decisamente pesante decisamente pesante però Laura Boldrini si sta si sta prodigando per la parità di genere nei porti vorrei ricordare a Laura Boldrini che anche i muratori così quel settore lì dovrebbe esserci la parità di genere anche nella costruzione è però insomma spostare alcune cose è decisamente pesantuccio arrivederci a tutti e grazie ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci a tutti e grazie